Bella ragazzi e benvenuti in questo nuovo video sul canale dello spazio dei Laziali Salernitana a 0, Lazio 2 Torna il gol in campionato Ciro Mobile Contentissimo per Ciro che si è sbloccato definitivamente Dopo il gol il gran gol che ha fatto giovedì col Clujo L'ha fatto oggi una doppietta in casa della Salernitana Una partita non facile perché un gama negatore Una squadra che è aggressiva Soprattutto nel primo tempo, nei primi 20 minuti Perché poi Lazio lì dal ventesimo in poi ha preso in mani le redini del gioco E ha fatto bene per tutta la partita Poi il 2 a 0 arriva nel secondo tempo Lazio fa inizientemente meglio il primo tempo e fa due gol importanti Però la squadra ha fatto una partita buona Ecco, è importante che sia rimasta concentrata per tutti i 90 minuti E la Lazio l'ha fatto oggi Cattiva, determinata Come ieri Sari vi ha accennato che l'importante non sarà molto aspetto tattico Ma sarà molto importante oggi L'aspetto fisico, l'aggressività, la rabbia Che appunto a Lazio oggi ha messo in campo in maniera anche molto positiva Bene la formazione, i giocatori che sono usciti in campo Bene Provedel, bene Sai e Marusic Bene la Coppa Centrale Casale-Patrick Sempre bene assolutata I due, bene centrocampo Bene Visino, un gran partire Visino Già col Cluce abbiamo visto il Visino all'inizio stagione E oggi abbiamo visto di nuovo un'altra prova importante da parte del Ruguaggio Che ho fatto una partita ottima Sia dal punto di vista tattico, difensivo Ma anche dal punto di vista del gioco, della qualità Perché nel secondo tempo ha messo una palla perfetta per Petro Che poi Petro non ha avuto la forza per mettere la palla in mezzo E far segnare immobile Anzi no, era Luz Alberto, scusate Però bene, bene Visino, bene Cataldi Si vede che Cataldi era riposato perché non ha giocato Giovedì contro il Cluce Ha avuto un riposo per 90 minuti E si sente, si è visto in campo Luz Alberto è bene, a parte il rigore che ha calciato malissimo al 90 Poi andiamo a fare il 3-0 ma non l'abbiamo fatto Luz Alberto, però nonostante il rigore sbagliato ha fatto una buona partita In entrambi le fasi, molto preciso, molto ordinato come Gede Sarri E poi arriviamo all'attaccanti Filippo è bene Di più nel secondo tempo rispetto al primo Il primo era un po' irritante Petro bene, molto bene Petro Può essere un po' più incisivo sul zona goal Però ha fatto una buona partita comunque Anche se può fare anche un goal Purtroppo non ha fatto, c'è un'altra fantacalcio Vabbè, lasciamo questo discorso a parte Però, bene, ha fatto una buona partita Poi arriviamo a Ciro Ciro che oggi ha fatto due gol Ciro in forma Sta tornando nella sua forma migliore Si è visto oggi in partita Per noi è importantissimo come giocatore È il nostro bomber, il nostro capitano Il nostro vanto Che ha fatto una gran partita Il gol contro il cruce lo ha sciolto definitivamente Anche nel palleggio Perché oggi si può prendere parecchio pallone a metà campo Come se fosse un regista d'attacco Come un po' fa Diego Con l'Inter Come ha sempre fatto nella sua carriera a Diego E ha fatto molto bene anche questo rammendo Tra centrocampo e l'attacco Facendo anche buoni passaggi E poi la fase della realizzativa è la sua L'area di rigore è sua Ha fatto due gol Uno su rigore E il primo è un gran gol Perché poi Ma la palla che ha messo Marosic è perfetta Perché l'azione parte perfettamente Da un grande assist Che fa Nella palla che Vecino lancia a Marosic Marosic che arriva con un treno E entra nella area di rigore della Sagernitana Mette una palla perfetta Impossibile da prendere quella palla Perché tesa Mezza altezza Dove Non può prendere neanche il pallone Il portiere Sepe E neanche gli avvenzori Quindi palla perfetta Ciro appoggia in porta E falla 1-0 Poi il 2-0 arriva con un rigore Che è netto Perché grazie a Ciro Che lui non ha mollato niente Non si è dato per vinto Ha rincorso Pirola e Sepe Hanno fatto un pasticcio a Maroso Ma dovuto Grazie al fatto che Ciro Si è andato lì a pressare E si è guadagnato il rigore Importante Netto Perché Tocca il pallone E Sepe lo travolgeva Sepe purtroppo non ha colpa Perché era già in corsa La colpa maggiore ce l'ha Pirola Ma meglio così Poi Escono Besino Entra a base Ci cantano bene Entrano Romero molto bene Entrano bene anche i cancellieri Bene anche i cancellieri Contento per i cancellieri Perché Si è guadagnato il rigore Facendo un ottimo movimento E purtroppo non ha segnato Però Mi piace È entrato bene in campo Giusta cartiveria Si è di cancellieri Che di Romero Che di Basic E Abbiamo fatto un'ottima partita Sono contento di venire Questi tre punti importanti Che dopo Un po' di settimane La Lancia torna a vincere In campionato Facendo anche bene È un campo duro Come quello della Salernitana In casa soprattutto E L'Atalanta oggi ha perso Quindi ricopriamo punti E Torniamo davanti L'Atalanta In classifica E Speriamo oggi Un passo falso Da Roma Contro il Verona Che non sarà facile Come partita Però Pensiamo intanto A noi stessi Vittoria importante Portata a casa bene E ora Non finiamoci qui Giocheremo il giovedì prossimo In Romania Col Cluge Con la speranza di passare il turno Anzi È un obiettivo passare il turno Col Cluge E poi Giocheremo il lunedì prossimo Con la Sampdoria Detto questo Il video può finire qua Iscrivetevi al mio canale YouTube Se lo avete ancora fatto A miei profili social TikTok Instagram E Twitch Che lascerò in iscrizione E Sempre forza Lazio Dai Lazio Dai Bentornato Ciro Ciao ragazzi Ciao ragazzi